Ora, lezione signore, scende in campo per voi, il Messer Luca Letto Lussurrioso! E infine per la mia bellezza, la mia rettitudine è comprovata sul campo di battaglia a Gerusalemme! Al portale non si noterebbe, che si batterà contro il Messer Luca Letto Lussurrioso! Avanti! Fattene! E raccogli quella spada incapace! Occhio, mi fa eschifo! Un applauso! Grazie a tutti!